Viene conferito il prezzo a Mettrici con qualche professore, a te, Pazzotti. In oggi, l'occasione del nostro sacro padrono, Salmanio, quello che facciamo è un segno, è un simbolo. E sappiamo quanto le tradizioni sono importanti, perché le tradizioni saranno anche a dirci che siamo in comunità, a ritrovarci in momenti in cui ci fermiamo, in momenti in cui magari rallentiamo anche un po' dalla freccesia della nostra vita, e pensiamo a chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. E dire grazie a persone che ci hanno permesso di essere qui, ma come dico sempre, noi siamo solo dei mani sulle spalle dei giganti, e loro sono un pezzo di quel gigante che costruiamo, che è la nostra città. È mancato il 5 parzzo del 2021. Viene conferito il premio al merito civico alla memoria ad Alessandro Centinario. Grazie mille.